Avremo ancora di fronte una squadra forte, una squadra organizzata, allenata da un allenatore che conosco molto bene, perché ha fatto un percorso come il mio e quindi dovremo cercare e stiamo cercando di trovare le contromisure per provare a mettere in difficoltà in un momento dove sicuramente il loro aspetto mentale è abbastanza sul filo del rasoio, perché quando fai un ritiro di una settimana non c'è mai la controprova che sia giusto o sbagliato, quindi dobbiamo cercare di sfruttare quelle che potrebbero essere le loro negatività del momento e anche il fatto che magari una piazza che si aspettava tantissimo, che si aspetta tantissimo, arriva da una retrocessione, da una mancata promozione e quindi le aspettative sono altissime. Noi dovremmo fare in modo di farci trovare pronti. Giulio questa settimana ha lavorato non con la squadra, domani deciderò se portarlo con noi a Frosinone oppure no. Per il resto c'è qualche problemino di affaticamento sui giocatori un po' più esperti, quindi vediamo un attimino domani la gestione anche in funzione di quelle che sono le partite molto ravvicinate che abbiamo. Però in linea di massima stanno tutti bene. L'attenzione che bisogna dare a Gilardino, così facciamo nomi, a Granocce che rientra da 15 giorni che è fermo, allo stesso Terzi, allo stesso Lopez che arriva da tre giorni dove non si è allenato, allo stesso Marilungo, deve essere una gestione attenta perché ho la necessità che la Rosa sia al completo per tutte queste otto partite.